Buongiorno e benvenuti a Maledetta Informatica. Questa sera urliamo una parolaccia, url. La parolaccia di questa sera infatti è url, che indica l'indirizzo di una pagina web, cioè la stringa di caratteri, quella che normalmente ma non sempre comincia con www, scrivendo la quale si arriva esattamente a una pagina web. La sigla url sta per Universal Resource Locator, che significa un programma capace di trovare delle risorse in modo universale. Questa stringa che viene dopo www, qualche cosa, viene tradotta da appositi sistemi in un indirizzo fisico proprio del calcolatore dove c'è quel sito e ci porta, ci fa vedere quelle pagine. Riflettete un attimo sulla potenza della U della parola url. Url vuol dire universale, vuol dire che in qualunque punto del pianeta io posso raggiungere una certa pagina. Ad esempio voglio vedere che cosa c'è in una sala di un museo di New York, se conosco la url del museo di New York lo potrò fare. Posso andare a vedere che tempo c'è oggi a Sestriere, se conosco la url della telecamera piazzata sulle piste posso farlo in questo momento. E se per caso fossi in vacanza su una spiaggia meravigliosa ma non volessi perdermi neanche una trasmissione di maledetta informatica? Beh, potrei andare alla url www.grptv.it e vedermela in diretta. Quindi cercate di capire la potenza che c'è dietro questa U. Purtroppo non è così in tutto il mondo. Infatti ci sono dei paesi dove ci sono delle dittature, dei sistemi meno liberi del nostro dove certe url vengono bloccate e quindi in certi paesi non è possibile raggiungere certi siti web. Ma questo non è per un limite tecnico, è soltanto per una questione politica. Adesso vi dico ancora una cosa che non ha nulla a che fare con la url, ma che ha a che fare con l'urlare. E ricordatevi che quando scrivete sul web o scrivete su una mail ad esempio o anche su whatsapp, usare tutte le parole maiuscole equivale ad urlare. Allora fatelo solo raramente quando non potete farle a meno, perché un messaggio tutto scritto con le maiuscole ormai lo riteniamo un po' offensivo. Con questo vi lascio e arrivederci alla prossima parolaccia. Grazie a tutti.